Ciao, sono Beppe Calgaro, sono qui con la Fratelli Calgaro per una mostra curata da Francesca Ameli Balbocchino e a Villa Lais, che è un posto fantastico a Sepicciano, una mostra curata da Francesca Ameli Balbocchino e sono qui con gli ultimi lavori di questi due anni di pandemia, dove c'è stato molto nero e poco bianco, ma in ogni caso si parla della natura come un luogo dove possiamo trovare la bellezza che si nasconde, è una bellezza che sta fuori dai social, è una bellezza che ha bisogno di un rifugio e questa casa è il nostro rifugio. Questo lavoro che vedete è uno scatto fatto a San Leo, è uno scatto a cui sono molto legato perché parla di quello che molto spesso ci succede, cioè possiamo avere una realtà oggettivamente difficile ma poi improvvisamente la possiamo vedere mutata e l'albero ridiventa fiorito. Grazie a tutti!